Amici sportivi, tifosi del Bari, ben ritrovati al nostro appuntamento col Bianco e Rosso TV Sport. Oggi giornata davvero densa di appuntamenti. Mentre andiamo in onda probabilmente c'è l'interrogatorio ad Andrea Masiello da parte del procuratore di Bari Laudati. Dico probabilmente perché è assolutamente tenuto blindato Masiello, che non dimentichiamolo, parla di intrecci fra calciatori, è un'organizzazione mafiosa, di cui la decisione probabilmente di interrogarlo in un angolo nascosto della città o addirittura in provincia di Bari. Ma poi ci sono anche fibrillazioni per quel che riguarda il futuro societario, perché poco fa, per chi ci segue in diretta, il sindaco Emiliano ha convocato una conferenza stampa per dire altre cose. Allora, io comincio da solo questa trasmissione, ma tra poco dovrebbe arrivare proprio ai nostri studi il sindaco Emiliano, quindi avrete la possibilità di parlare con lui allo 080 501 9998, ma attendiamo il sindaco che nel frattempo è preso da altri impegni istituzionali. Quindi situazione assolutamente incandescente e poi, sempre in mattinata, magari un fatto un po' marginale, il Bari ha presentato questo giovane ungherese, si chiama Simon, Palermo l'ha prestato al Bari nell'ambito dell'operazione Donati. Quindi vi faremo vedere questo volto nuovo. C'è un amico in linea, pronto? Ciao Enzo, Livio Dottorramare. Ciao, ciao Carlo. Allora Enzo, io vorrei dirti una cosa. Oggi Massiello sarà a Bari, no? Per essere ascoltato. O a Bari o in provincia di Bari, non si sa dove. Vorrei lanciare un'iniziativa o una provocazione al signor Massiello. Vai, Massiello sei eccessivo. Se nel caso Massiello vengono riscontrate delle responsabilità reali da parte di Massiello o altri giocatori, Belmonte o chi che sia. Vabbè, altri giocatori, non sappiamo chi. Invito tutti coloro che come me hanno l'anno scorso effettuato l'abbonamento a unirci e nominare un unico legale che tuteli i nostri interessi perché mentre loro truccavano le partite, noi ci siamo fatti una malattia per questa retrocessione. Io sono pienamente d'accordo con te. Ok. Grazie. Un attimo, un attimo. Sì, vai. Quindi dobbiamo richiedere un risarcimento materiale e morale e vediamo Enzo se in questo modo riusciamo a punire quella parte di giocatori che truccano le partite a farli aprire il portafoglio a quelli pseudo calciatori. Grazie per il tuo intervento, grazie. Io la penso come te. Io addirittura lo farei anche per noi giornalisti una richiesta di risarcimento d'anni perché raccontare, descrivere, commentare una partita taroccata francamente lede anche la nostra immagine, se vuoi sapere è la mia. Vabbè, 080-501-9998 per la vostra telefonata in diretta su Telebari, Radio Bari oppure attraverso il sito www.radiobari.net. C'è un altro amico in linea, pronto? Ciao Enzo, carissimo Leo Damiani. Ciao Leo, ciao, ciao, bene, grazie. La salute è bene, però la morale per il Bari è un po' giù. Senti Enzo, volevo fare una notazione. Il pubblico più volte dall'anno scorso ti ha detto Bari-Genoa, Bari-Chievo. Genoa-Bari. Genoa-Bari, scusa, Bari-Chievo e Genoa-Bari, scusami. L'abbiamo detto più volte e che qualcosa non guardava. Oggi sulla gazzetta se ne parla. Volevo dirti, infatti, una domanda. Ci dici, no, tanto sono le ultime partite e Bari è ormai in Serie B. E bravo, questo è il distinguo che faccio, dici una cosa giusta perché fine campionato è grave comunque, ma se l'hanno fatto all'inizio sono dei criminali. Esattamente, Enzo, la finisce campionato è grave, inizia e finisce. Il pubblico l'aveva detto, Bari-Chievo, scusami Enzo, mi pare di fare una notazione, è così banale l'errore che Barsiello difficilmente la metterà. Perché la prova lampante ce l'abbiamo davanti, davanti ai 30.000 che l'hanno vista. Va bene, va bene, grazie Leo per il tuo intervento. 080-501-9998 per le vostre telefonate in diretta su Telebari, Radio Bari oppure attraverso il sito uralibari.net. Ovviamente stiamo aspettando il sindaco che ci raggiungerà nei nostri studi per parlare di queste novità che riguardano la sua posizione rispetto alla questione societaria. Come saprete il sindaco è stato anche oggetto di critiche da parte della tifoseria che ha esposto Stiscioni allo stadio contro di lui. Uno in particolare, primo cittadino, ultimo tifoso, ma poi una serie di altre cose. Intanto vi ricordo che domani in un albergo cittadino c'è questa maxi-assemblea dei tifosi del Bari promossa dagli Ultras per capire se ci sono i presupposti per l'azione al lato popolare. Quindi come vedete, tanto fermento. Devo dirvi, tanto fermento, per il momento pochi fatti, però tanto fermento. Se dalla regia mi dicono... Telefono? Sì, pronto. Ciao Enzo Daniele. Ciao Daniele, ciao. Enzo, io voglio che tu fai almeno il promotore di ciò che ha detto il primo telespettatore, quello di raccogliere le fime. Solo mettere un unico legale, se no poi se mettiamo tanti legali diversi non si fa niente. Puoi chiedere al dottore Emiliano, visto che sono ignoranti in materia giuridica, che cosa ha detto la corte di Bruxelles quando riguarda Punta Perotti, e poi io vorrei che, propongo, che lo stadio Stanicola diventi, visto che ormai si sta calando ormai, diventi un colosseo e fa tubire ai giocatori le strutture di Platte, le strutture di Platte... È colorita la tua immagine, è colorita la tua immagine. Ci sono i palazzi, ci sono i palazzi, ci sono modi diversi per far pagare i disonesti, quindi lasciamo perdere, capisco il colore, capisco l'idea che uno stadio possa sembrare un'arena o qualcosa del genere, però per fortuna i tempi sono un po' cambiati. Alle mie spalle c'è Simone, giocatore ungherese, che è stato presentato questa mattina. Sentiamo cosa ha detto. Per me è così grande chance, perché ho iniziato male in Palermo perché è infortunato, in squadra nazionale, e non posso giocare in Palermo sei mesi. Ora io faccio tutto qui in Bari, perché io voglio giocare. Questi sei mesi sono importanti in mia vita, perché in Italia non conosce tanto me, ecco perché io voglio giocare anche bene. Giocare anche, giocare bene. Io richiamatemi Gostogni, conosci Gostogni, giocate qui. Lui ha detto qui bene, tutti stadio, società, tutti entusiasmi, tutti tifosi, tradizionali, club così, sì, per me è grande rispetto. Così ha detto sei mesi, bravo per me, se io posso giocare. Ottobre ho giocato partite in squadra nazionale, ora sono pronto. Se io gioco qui bene, io spero che io possa giocare prossimo anno in Palermo. Io spero, io posso aiutare per squadra, andiamo più sopra, capito? Vabbè, poche parole diciamo, da parte di Simone che non parla benissimo l'italiano. C'è un altro amico in linea, prendiamo un'altra telefonata. Ciao Enzo, buonasera. Ciao, chi sei? Volevo così, giusto avere, se tu gentilmente me la potresti dare, ma come mai il Bari ha dei giocatori fuori rosa e non li utilizza? Visto che abbiamo questa situazione precaria, economica. Tipo? Tipo Rana. Eh. Tipo abbiamo un altro ragazzo, Gigli, che è un terzino sinistro, visto le sciagure che ci ha fatto il nostro carissimo terzino sinistro. Cioè non riesco a capire perché non vengono impegnati i giocatori. Abbiamo dato Statella al Pavia. Cioè li potevamo utilizzare per fare una squadra di giovani, senza che andiamo a prendere altri giocatori che magari non sanno neanche parlare in italiano. Vuole vedere la natura come farà a spiegargli in allenamento quello che deve fare. Quello che deve fare. Guarda, mi dici di spingermi in valutazioni tecniche, francamente. Altre società, secondo me, utilizzano i propri giovani proprio per valorizzarli. Noi invece valorizziamo i giovani di altre squadre. Grazie per il tuo intervento. Su questo posso essere anche d'accordo. Perché non posso dimenticare che, ad esempio, uno come Grandolfo, per carità, era tutto da vedere il valore di Grandolfo. Peraltro pare che abbia segnato una tripletta in una partita di quelle un po' sui generis, cioè Bologna-Bari. Però io ero curioso di vedere cosa avrebbe potuto fare Grandolfo in serie B. Obiettivamente, nella situazione in cui ero in Bari, a mio avviso, considerato che poi alla fine capisci che l'obiettivo play-off è un obiettivo molto aleatorio, nel senso che si è detto, ma probabilmente non si ha la forza per raggiungerlo, a quel punto valorizzo i giovani, magari ne tiro fuori tre, che hanno un valore e quindi mi danno la possibilità di proseguire e di andare avanti col futuro del club. Obiettivamente, da questo punto di vista, la strategia non si è capita, perché si era pensato all'inizio di puntare sui giovani. Poi, improvvisamente, sono arrivati Bogliasino, De Paola e compagnia Bella. Ora, in qualche modo, si fa di nuovo marcia indietro, nel senso che si dà via il giocatore più forte, dal mio punto di vista, che è Donati. E adesso prendiamo addirittura i giovani dal Palermo, abbiamo preso un giovane dalla Fiorentina. Per carità, anche quelli sono investimenti. Romizzi è un investimento perché è in comproprietà, però, evidentemente, io ripeto, Grandolfo, francamente, me lo sa ritenuto, per capire almeno il valore reale di questo ragazzo, che è un attaccante. Si sa che quando un attaccante fa pure 10 gol in serie B ed è così giovane, ha valore, insomma, poteva essere un investimento. Vabbè, sono le cose perlomeno discutibili di questa stagione, ma purtroppo la parte tecnica è passata un po' in secondo piano rispetto agli altri problemi. Dobbiamo andare in pausa pubblicitaria. Noi stiamo attendendo sempre che arrivi il sindaco Emiliano, che mi risulta si sia mosso qualche minuto fa dal Comune, magari anche per un piccolo spicchio del Tibisport, insomma, ci piacerebbe averlo ospite nei nostri studi, perché oggi ha ritenuto opportuno precisare alcune cose rispetto alla sua posizione in merito alla crisi del Bari. Fermiamoci, pubblicità, poi di nuovo insieme.